eccoci qua siamo tornati alla seconda parte che facciamo due video di un quarto d'ora perché non ci sta 30 minuti dove facciamo il postaggio del video ok continuiamo ancora con la combi ok una bottiglia solo con le gambe prendete la sedia che abbiamo appoggio faccio un piccolo quindi vedete meglio gamba sinistra per la bottiglia della mano a testa scende dritto 1 2 3 4 5 scendete piano 6 7 8 ancora forza 1 2 3 4 5 6 7 8 cambiamo la gamba se cambia la gamba davanti cambia la bottiglia della tua faccio così vedete meglio schiena dritto non vai mai avanti con il ginocchio scende dritto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bravo recuperiamo le gambe e torniamo alla parte superiore puoi fare anche da seduti ok spalle frontali su al testo delle spalle scendi piano senza mai lasciare andare giù la bottiglia ora davanti viso scendi piano su 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora 1 2 3 4 5 6 7 ho l'opzione di usare le bottiglia che magari se non hai la bottiglia prendi un'opzione di usare le bottiglia se non hai il manubbio a casa prendi le bottiglia ok? da un lito un lito e mezzo o due tricipiti ferma dietro la gambraccia e lavora solo su 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 6 7 7 8 8 1 3 4 5 6 7 8 1 1 3 4 5 7 7 8 8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamo i bracci, faccio così, vedete, è bello. Non bisogna girare, giro solo per fare vedere i movimenti. Da, su, a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lasciamo la sedia, prendiamo adesso la seconda bottiglia. Il materassino può essere anche quello che usate nel bagno, è importante che è pulito bene. Iniziamo a lavorare i sdraiati senza fretta, sdraiati con la pancia in su, attenzione. Quando siamo per terra, quando lavoriamo sui step, scende un po' più col gomito qua. Quando siamo per terra, appoggia senza appoggiare il gomito nel pavimento. Lavora adesso, per torare, spingiamo. Uno, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Desi spalle, gomito stretto, su in alto senza toccare il gomito. Su, torno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Triccipiti dietro il testo. Gino un po' così, così, un po' più meglio. Unite le bottiglie così, gomito stretto. Scendi dietro il testo senza toccare il pavimento. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso, croce fettorale. Aprite bene il petto senza toccare il pavimento. Buttate fuori l'aria, allungate verso il sottito. Due, otto, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso, appoggia la bottiglia o il manubrio sulla pancia, peso del talone, su e giù con il bacino, stringendo il sedere quando andate su. Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Facciamo la seconda serie, però a casa fate sempre tre, ok? Iniziamo sempre con i spinti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Subito, uomini strette, spalle frontali, dentoni, su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Manteniti su, la bottiglia un'unica vicino all'altra, gomito stretto, principi due, due. Uno, due, tre, quattro, cinque, lavora sopra la braccia, apre, sette, otto ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Forza, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Subito appoglio sulla pancia e su e giù con il bacino. Uno, due, tre, quattro, piedi peso, cinque, peso nel talone. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Pratico, lasciamo in piedi e adesso iniziamo l'addominale, ok? Facciamo tutta la serie, superiori e inferiori, obliqui e inferiori. Ok? Mani dietro, testa. Non lasciare neanche un po' di effetto, sempre guardando in alto, aprite il gomito, su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, venti. Oggi facciamo venti perché se no non riesco a fare tutto il tre, però a casa si può fare trenta, quaranta o cinquanta, è quello che riesci, ok? Obliqui adesso, gomito sinistro nel ginocchio destro, cambio, gomito destro nel sinistro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, più dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, venti. Si può fare anche serie da trenta, quaranta, cinquanta, addominali interiore, importante, le mani sotto proprio il sedere, pulite le gambe, ginocchio verso il pavimento, talone verso il pavimento, ginocchio verso il pezzo, su e torna. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, venti. Allora, le sequenze sono di tre per trenta, o quaranta o cinquanta, ok? Ognuno fa quelle che riesci. Non dimenticare sempre alla fine di fare il plank, ok? Conta, venti secondi, con il ginocchio appoggiato o se no con le gambe allungate, ok? Trova la posizione giusta, conta fino a venti o magari metti il telefonino e fai il contagio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, venti. Appoggiato il ginocchio, allunga sempre la schiena, sedere dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso, forse dell'addome. Allora, braccio sinistro, gamba destra. Siamo fatto sempre la fine della lesione. Ricordate, allora, dieci verso sinistro, dieci verso sinistro e destro e dopo dieci insieme, ok? Faccio un pochettino così, così vedete meglio. A, uno, tocca, due, forse nelle gambe, tre nelle braccia, quattro nell'addome, Cinque, sei, sette, otto, nove, cambia subito, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, di seguito, via. Uno, cammino, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Hai visto che ho fatto dieci dieci? Perché se no il video diventa troppo lungo, non riusciamo a mettere su Facebook, su Instagram o su YouTube che riesce a fare un po' più di... Per questo che stiamo facendo il tempo di 15 in 15, ok? Allora, allenate bene a casa, fino a che torniamo in palestra e domani torniamo con la lesione di O'Balance. Vediamo adesso con la Paola, che è sempre qua, che mi aiuta. Per voi, sempre, per stare a casa fermi. O vediamo O'Balance o Tabata, ok? Un bacio, a domani, ciao!